L'autore che amiamo di più e che ci ha fatto veramente un grandissimo onore questa sera non solo di venire a ritirare un premio perché i premi si sa vanno e vengono ma il premio più grande è quello che abbiamo vinto noi per essere in sua compagnia questa sera ed è Roberto Saviano. Una volta mi convocano insieme a San Marraci all'Accademia Nobel quindi entro lì e mi fanno dormire nel posto dove in genere non vanno, fanno dormire i convocati, i premiati in quel caso Salman mi dice guarda che lì il letto su cui hanno dormito mi fa l'elenco e poi vengo a sapere che Gabo Marquez quando vince il Nobel non ce la fa dormire su quel letto perché non si sente all'altezza e quindi dorme sul divano, ha giurato che ha fatto così a me veniva voglia alla fine insomma di questo elenco e ho dovuto dire forse è bene che dormo sul divano di questo elenco.